Ecco qui siamo dal vivo, buonasera a tutti, siamo qui con Marco Cattaneo, laureato in economia all'Università Bocconi, è un esperto di finanza industriale ma ha una grande passione di politica economica e infatti insieme a Giovanni Zivordi ha scritto recentemente un libro che si intitola La soluzione per l'euro, 200 miliardi per rimettere in moto l'economia italiana, creare moneta, ridurre le tasse e rilanciare la domanda, insomma un sogno diciamo. Allora grazie mille Marco per essere con noi. Grazie a voi. E vabbè partiamo subito con una premessa, recentemente diversi padri fondatori dell'euro hanno sollevato un po' di perplessità su questa moneta unica, quindi non siamo di parte nel dire che c'è qualcosa che non va, ecco. La domanda è che cosa non funziona in questo euro? Noi stiamo vivendo una crisi economica molto profonda che in effetti non è iniziata come una crisi del sistema euro, c'era stata precedentemente la crisi finanziaria internazionale, il fallimento Liban Brothers a valle di tutto il fenomeno della crisi esa prime, delle difficoltà del sistema accreditizio immobiliare americano e di conseguenza internazionale, ma effettivamente da circa tre anni la svolta è stata pesantemente negativa per le economie europee, per le economie dell'eurozone in particolare. Per cui dal 2011 all'incirca con dei prodromi in realtà che si erano verificati già negli anni precedenti presso paesi di relativamente piccola dimensione, Grecia, Portogallo e Irlanda, è diventata una crisi che poi ha toccato l'Italia e la Spagna, quindi paesi di maggiore dimensione nell'abito del sistema euro. Fondamentalmente la crisi dell'euro ha tre componenti o tre fattori nei meccanismi di gestione del sistema che è bene aver presente perché sono collegati in qualche maniera ma sono tra di loro poi in definitiva anche distinti. Un fattore e forse quello che viene citato più comunemente, il problema della moneta troppo forte per certi stati, troppo debole per altri. Quando l'euro fu introdotto, parliamo del 1999 come cambi fissi irrevocabili e poi tre anni dopo fu introdotte fisicamente monete e banconote, i cambi di conversione furono quelli che riflettevano la realtà di mercato del momento, quindi erano abbastanza equilibrati e non c'erano particolari sfasamenti, particolari scompensi di bilancio commerciale. Però fatalmente nell'ambito di un blocco di paesi che erano inizialmente 11, poi sono limitati a 19, 17, 18, ci sono delle strutture di formi, ci sono paesi che hanno dinamiche di inflazione, di costo del lavoro più accentuate, più rapide e altre che invece sono più conservativi, gestiscono con maggiore disciplina e il caso classico ovviamente è quello del blocco tedesco, della Germania in particolare. Che però, se non ricordo male, introdusse anche poco dopo l'introduzione dell'euro, proprio alcune riforme del lavoro. Sì, questo è stato accentuato, però se vogliamo possiamo anche vederlo come un po' un'applicazione di concetti che nel mondo tedesco sono sempre stati un po' tipici, cioè la disciplina nel contenimento della dinamica dei costi salariali, le riforme alti, in particolare l'introduzione dei mini job, hanno creato un fenomeno particolarmente accentuato a partire dal 2003-2004, dove le retribuzioni tedesche si sono mosse sostanzialmente con tassi di sviluppo al di sotto della crescita della produttività. Nel momento in cui in realtà nella maggior parte dei paesi dell'Europa, dell'eurozona meridionale, avveniva esattamente al contrario, quindi c'erano sfasamenti dei tassi di inflazione. Tutto questo non è una novità dell'euro, è quello che in Europa poi in definitiva è sempre avvenuto con tassi di crescita che erano anche diformi, in realtà tra blocco settentrionale e blocco meridionale. Qual è il problema? Il problema è che è venuto a mancare il meccanismo di flessibilità, di aggiustamento. Quando ogni paese aveva la sua moneta, i paesi che avevano una dinamica inflattiva, soprattutto con riferimento ai costi di lavoro e ai costi di lavoro per unità di prodotto meno accentuata, vedevano la tendenza della loro moneta a rivalutarsi, quindi il marco tedesco in buona sostanza si rivalutava, si apprezzava rispetto alla lina italiana, alla pereta spagnola, anche franco francese e quindi si veniva a creare un riequilibrio. Questo meccanismo di aggiustamento è stato eliminato, con la moneta unica non c'è più un sistema di cambi che gestisce in maniera più o meno efficiente, più o meno rapida, più o meno adattabile, si è arrivato a un sistema completamente rigido. Questo ha creato sfasamenti e ha creato la creazione di surplus commerciali dove diventava sempre più conveniente produrre al nord, produrre in Germania e la Germania peraltro questi saldi commerciali, che poi erano anche crediti finanziari, li utilizzava a sostegno del finanziamento delle sue esportazioni. Quindi sostanzialmente deficit commerciali al sud, surplus al nord ed era la Germania stessa che finanziava i deficit, prestava soldi all'economia dell'Europa mediterranea per comprare i prodotti che era più conveniente produrre al nord dell'eurozona. Questo è un problema, quindi gli scompensi di bilancia commerciale, però non è l'unico. Ce ne sono altri due che assumono un'importanza che potrebbe forse essere definita nello stesso ordine di grandezza, se non addirittura superiore. Torniamo al fatto che nel 2008 si è verificata una grossa crisi nel sistema finanziario mondiale, quindi le economie sono andate in blocco sostanzialmente. C'è stata un'improvvisa contrazione del credito, una caduta di produzione, una caduta di ordini e qui una flessione della produzione e dell'occupazione in tutto il mondo occidentale industrializzato, per così definirlo. Questa è una classica crisi da caduta da domanda aggregata, assolutamente analoga a quella che Keynes aveva descritto con riferimento agli anni 30. La grande depressione fu indescata, quantomeno, dal crollo di Wall Street del 1929. Questa crisi è nata per un fenomeno che ha toccato più il mondo immobiliare, se vogliamo, che quello bursistico, però poi sono riverberate. In entrambi i casi c'è stata una crisi caduta di valore di investimenti, di crediti che avevano finanziato attività speculative sul mercato immobiliare e poi anche su quello bursistico, che ha innescato la caduta repentina della reputazione di borsa e quindi una pesante caduta dei corsi del mercato dei capitali, del mercato bursistico. Quando si verificano queste situazioni, e questo era il grande insegnamento keynesiano che è stato purtroppo in larga misura dimenticato nella gestione di questa crisi, contrariamente a quello che sostenevano gli economisti neoclassici, il recupero, il riequilibrio non è qualcosa che avviene in maniera automatica perché l'economia tende da sola a rimettersi in situazione di reimpiego delle sue risorse. Si verifica sostanzialmente che la caduta di domanda diventa un fenomeno permanente che può estendersi per parecchi anni e il motivo in buona sostanza è legato al fatto che gli operatori economici, compresi anche aziende e privati cittadini che hanno subito gli effetti di una crisi di domande, una crisi di livelli di attività del sistema economico, si trovano improvvisamente con le aziende o gli investitori con grossi carichi di debiti che non sembravano così elevati prima della crisi ma lo sono rispetto a livelli di attività di reddito che sono improvvisamente caduti. Le aziende reagiscono tagliando i costi, quindi aumenta la disoccupazione, aumentano i problemi legati al mondo del lavoro, si riduce la capacità di consumo dei privati che in qualche misura poi possono avere livelli più o meno alti di debiti personali per credo al consumo per molto ipotecari e quindi si diffondono problemi diffusi un po' in tutto il sistema che si amplificano perché alimentano sostanzialmente la difficoltà nel far sì che la domanda si riporti da sola in maniera più o meno automatica ai livelli pre-crisi. Negli anni 30 sostanzialmente Keynes elaborò una teoria di gestione di crisi con queste caratteristiche con interventi di sostegno della domanda che era basata sul concetto di fare affidamento sul ruolo dello Stato, sostanzialmente l'intervento esplicito della mano pubblica che riattivava la domanda rimettendo potere d'acquisto in mano a cittadini e aziende e questo lo Stato lo può fare in due maniere o tramite la spesa pubblica diretta o tramite forme di riduzione di imposta o di sostegno di sussidi alla spesa dei consumatori privati o delle aziende stesse. Quindi la scelta che va fatta in questi casi è metto soldi nell'economia tramite la spesa pubblica e lo Stato o li metto tramite sovvenzione di riduzione di imposte, quindi la scelta tra spesa pubblica e spesa privata, ma alla fine c'è sempre un ruolo dello Stato. Lo Stato deve farsi agente per fare in maniera che il riequilibrio non richieda anni, ma si verifichi in un arco temporale relativamente breve. Allora Marco ti interrompo un attimo, abbiamo capito un po' hai recuperato un attimo le motivazioni per cui questo euro non ha funzionato nel suo impianto, questa sera non è, non vogliamo fare una disamina euro sì euro no, non ci interessa in realtà, volevamo giusto vedere quali erano i meccanismi dell'euro che non hanno funzionato e tu li hai ben delineati su questa mancata possibilità di riequilibrio di economie che funzionano a ritmi diversi in sostanza e in qualche modo abbiamo introdotto l'argomento successivo, cioè che in qualche modo vogliamo aggiustare questo meccanismo, quali sono le azioni che si possono fare per aggiustare un meccanismo del genere ed eventualmente perché potrebbe essere significativo riappropriarsi in qualche modo di un certo tipo di sovranità economica, io la chiamo magari sovranità monetaria in maniera non appropriata, poi se tu se vuoi chiaramente potrai integrare questa cosa. Cosa si può fare? Abbiamo detto che c'è un problema di sfasamenti tra paesi, abbiamo detto che c'è un problema di necessità di un ruolo attivo dello Stato nel ripristinare la domanda, cito anche un terzo punto che in realtà se vogliamo è collegato, i debiti pubblici dei vari paesi non sono più debiti espressi nella propria moneta nazionale, ma sono debiti espressi in quella che ha tutti gli effetti della moneta straniera perché l'Euro è gestito dalla banca centrale che è scollegata da qualsiasi impegno, anche i trattati prendono esplicitamente, che non possa garantire o finanziare in maniera diretta i deficit pubblici e i debiti pubblici dei singoli stati, anche se poi questo è un principio che ho trovato delle applicazioni non sempre completamente rigorose. La sovranità monetaria diventa decisiva perché in presenza di questo tipo di situazione dobbiamo tornare a ridare ai singoli stati la possibilità di esercitare le azioni che risolvono i difetti del sistema che ho esposto precedentemente, quindi dobbiamo permettere agli stati che sono in deficit di competitività di riallinearla. Quindi se l'Italia ha un costo del lavoro per unità di prodotto più alto di quello tedesco ho bisogno di un meccanismo di riequilibrio che non sia però ridurre violentemente le attribuzioni. Giusto così per fare un ripasso, vuoi in 10 secondi dire che cos'è il costo per unità di prodotto? Il costo del lavoro per unità di prodotto è semplicemente il costo totale di retribuzione diviso per la produttività, quindi sostanzialmente fatto pari a 100 il costo del lavoro dello stato A, un altro stato può avere un costo analogo con una produttività del 10% più alta, a questo punto il costo del lavoro per unità di prodotto sarà il 10% più favorevole per il secondo stato che per il primo. Il riequilibrio tendenziale richiederebbe all'incirca che ci sia un movimento dei cambi, quindi se ogni stato ha la sua moneta sostanzialmente i cambi tendono a livellare questo equilibrio perché la moneta e lo stato più produttivo che tende esportare di più tende ad apprezzarsi, perché per comprare i beni che quel paese esporta devo acquisire la moneta sul mercato dei capitali. Quindi questo è un primo problema dove il fatto che ogni stato disponga di una sua moneta rende il meccanismo flessibile e lo rende flessibile perché c'è un tema di cambi che forniscono questo meccanismo di aggiustamento, poi bisogna entrare in approfondamenti perché anche i cambi flessibili non funzionano necessariamente sempre col massimo di efficienza, col massimo di rapidità, ma insomma poi nel tempo esiste un meccanismo di aggiustamento che è venuto meno. Quindi la sovranità monetaria consente questo, la sovranità monetaria consente anche di effettuare azioni anticicliche, perché qual è la maniera migliore per superare una crisi da caduta improvvisa della domanda, da caduta più lenta della domanda, con i connessi strascichi in termini di disoccupazione? E quella che lo stato, dicevo prima, la sostenga sostanzialmente incrementando la sua spesa o dando risorse privati, quindi riduiscono le imposte in primo luogo perché siano loro a spendere. Tutto questo se ho uno Stato che ha il suo strumento monetario lo posso fare sostanzialmente aumentando l'emissione di moneta. Se questa moneta invece la devo acquisire da un'entità terza, come oggi la Banca Centro Europea, devo stare alle condizioni che un'entità terza mi impone e queste condizioni posso essere particolarmente sfavorevoli perché vado a chiedere risorse finanziarie che potrei stamparmi ma non lo faccio perché la moneta me la stampa qualcun altro e alla fine devo fare affidamento a un reperimento di risorse sul mercato e lo devo fare proprio al momento in cui il mio Paese è in difficoltà. Ovviamente il mercato dei capitali privati a questo punto impone condizioni per erogare credito che sono penalizzanti, quindi si aggiunge una penalizzazione proprio al momento in cui il contesto economico è più sfavorevole. E questo si lega al fatto, ed è poi proprio lo stesso fenomeno, che se ho sovranità monetaria vado a raccogliere, vado a emettere debito, il debito pubblico lo denomino nella mia moneta. Il fatto che il debito pubblico sia denominato nella mia moneta sostanzialmente vuol dire che la mia banca centrale, quindi lo Stato stesso, è garante delle emissioni perché posso sempre rifinanziare il debito in scadenza monetizzandolo e mettendo debito nella moneta stessa. Dispongo della macchina da stampa. La macchina da stampa invece l'ho buttata via, nel momento in cui ho affidato le chiavi alla Banca Centrale Europea, c'è un soggetto terzo che decide lui come, se e a che condizioni sostanzialmente garantire o non garantire. In realtà tutto il meccanismo dell'Eurozona si è fondato sul concetto che non ci fosse una garanzia esplicita, anzi non ci dovrebbe essere nessun tipo di garanzia. Ogni Stato doveva provvedere a se stesso, doveva ripetere le risorse necessarie sul mercato dei capitali o comunque mantenere la famosa logica dei conti in ordine, in ultima analisi. La logica dei conti in ordine però diventa particolarmente penalizzante proprio quando si verifica una crisi con le caratteristiche che si sono sviluppate a partire dal 2008. Se vogliamo vedere in altri termini, l'eurosistema era un meccanismo che aveva buttato via una serie di condizioni di flessibilità, una serie di ammortizzatori e quindi funzionava non troppo male, diciamo in maniera sufficientemente adeguata, fin quando la strada era perfettamente liscia. Un sistema di governo economico-monetario però deve gestire proprio le fasi in cui l'automobile viaggiando incontro una buca. Nel momento in cui incontro un grosso ostacolo, una grossa difficoltà, devo avere gli strumenti di azione che diano flessibilità e che non scarichino sull'economia reale i problemi che si sono creati a partire per esempio dal mondo finanziario. Bene, approfitto di questa piccolissima pausa perché dico a chi sta seguendo, se vuole porre delle domande lo può fare tramite l'interfaccia a disposizione, io le vedo direttamente, cercate di fare una domanda chiara, circostanziata in modo che io riesca poi a porla a Marco e qui introduciamo il piatto forte della discussione, quindi questo meccanismo, questo strumento di politica economica sovrano, quindi di ogni Stato, che Marco e il suo autore propongono, che si chiamano i certificati di credito fiscale. Marco spiegaci che cosa sono, cosa propone in questo progetto, che cosa sono i certificati di credito fiscale. L'origine della proposta prende le mosse dalle considerazioni che ho cercato di sintetizzare in precedenza, dado il contesto che si è venuto a creare a partire dal 2011, ero arrivato come altri peraltro alla conclusione che l'eurosistema era condannato a un certo punto o a spaccarsi o a creare una situazione di depressione semipermanente, destinata a portarsi per molto tempo in un'area del mondo economico europeo che toccava tutti i paesi in difficoltà e nel tempo avrebbe rischiato poi di aggravarsi a vari altri contesti e altre situazioni. C'è il problema appunto che mentre un sistema di cambi, magari con delle parità preordinate come quelle previste dal sistema monetario europeo nel 1992, a un certo punto può comunque venire meno, quindi si crea un improvviso fenomeno di riallinamento valutario, svalutazione che magari può creare delle turbolenze di breve termine, ma in definitiva le monete esistono, semplicemente si decide che a un certo punto una certa parità viene modificata, i cambi vengono lasciati flutturati sul mercato, qui invece abbiamo, nelle parole di chi questo sistema l'ha progettato e l'ha proposto fin dalle sue origini, chiuso la porta e buttato lì la chiave, quindi abbiamo creato un sistema che è difficile, poi è un tema su cui tornerò successivamente, da modificare. Mi sono quindi messo a riflettere su modalità e possibilità di ritornare a un sistema flessibile, ritornare a un sistema monetario e di governo economico che superasse i problemi che ho menzionato precedentemente, senza però arrivare alle complicazioni di una spaccatura della moneta unica, quindi è un sistema che ripristinasse, riallineasse la competitività tra i vari paesi, di un sistema economico, senza però pretendere svalutazioni salariali pesanti, tali da ulteriormente peggiorare la crisi di consumi, la crisi di domanda, un sistema che consentisse alle entità statali di ripristinare i corretti livelli di domanda necessari ad assicurare buone condizioni di impiego, di occupazione del sistema economico, tra l'altro con il problema che questi livelli di intervento non sono gli stessi paese per paese, appunto perché i paesi più competitivi, i paesi che hanno beneficiato del cambio fisso, sono quelli che questi tipi di intervento non lo richiedono e questa è l'altra difficoltà. L'Euro oggi non è gestito in maniera appropriata appunto perché nel momento, tra le altre cose in cui si vuole essere effettuare azioni di sostegno, queste situazioni non servono nella stessa misura nell'Europa, nell'Euro zona settentrionale e nell'Euro zona mediterranea. Quindi questa crea difficoltà, andrebbe gestito tramite meccanismi di trasferimento da nord a sud, che però non vengono accettati perché non c'è un senso di identità nazionale, un senso di condividere sostanzialmente risorse finanziarie, quindi il problema poi definitivo è politico. Marco, ti interrompo un attimo perché prima di entrare proprio nella tematica CCF, che secondo me è significativo trattare tutta in un blocco solo, ci sono due domande pertinenti su quello che avevi appena detto, che sostanzialmente entrambe vertono sulla questione della sovranità monitaria, quindi vale la pena magari toccarle un attimo rapidamente ora. Davide chiede, ma finora si è parlato di moneta sovrana che è messa dallo Stato, ma ad oggi il denaro è creato da banche private e in effetti anche Mauro dice, ma come si fa a tornare ad avere una banca dello Stato quando comunque anche Banca Italia attualmente è proprietà di banche private? Quindi due domande molto simili, in che modo potremmo toccare questa problematica? In che modo poi lo Stato potrebbe effettivamente ritornare ad avere una sovranità monetaria? Beh, queste sono domande che mi portano già se vuoi anche a introdurre la proposta, nel senso che, faccio una breve premessa, è vero che Banca d'Italia ha alcune istituzioni private nel suo azionariato, quindi una situazione abbastanza spuria, abbastanza ibrida, comune anche a qualche altro paese, però in buona sostanza ai tempi in cui Banca Italia era l'istituto di emissione, comunque gli organi di governo erano di nomina politica, anche se poi la presenza di istituzioni private del capitale creava dell'ambiguità che poi sono riaffiorate in maniera molto rilevante proprio con la vicenda recente che tutti ricorderanno del decreto di Banca Italia. Però per tornare sul tema, un concetto di sovranità monetaria effettivamente funzionante e coerente richiede che in effetti questa forma di moneta, chiamando la forma di moneta poi introduco il tema dello strumento che adesso vado tra poco a descrivere, sia sotto la sua emissione, la sua garanzia, sia sotto il controllo di un entità pubblica di emanazione governativa. In effetti questo tipo di strumento monetario di cui l'Italia dovrebbe tornare, nella nostra proposta deve tornare a lottarsi, potrebbe essere tranquillamente messo direttamente dal Ministero dell'Economia, quindi dal governo. Non c'è bisogno che sia un'istituzione di natura bancaria a occuparsene. E qui appunto arrivo alla descrizione dello strumento. Il certificato di credo fiscale, di che cosa si tratta? Si tratta nella proposta di un titolo di Stato emesso dal Ministero dell'Economia che dà diritto al titolare, all'assegnatario, a chi lo riceve, di utilizzarlo per pagare qualsiasi forma di impegno finanziario nei confronti della pubblica amministrazione italiana. Qualsiasi forma di impegno finanziario vuol dire in primo luogo tasse imposte, ma vuol dire anche contributi pensionistici, contributi sanitari, qualsiasi cosa io debba alla pubblica amministrazione italiana, può essere l'Inps, può essere l'amministrazione centrale, può essere una regione, una provincia, un pubblico, qualsiasi entità pubblica. La proposta consiste nel emettere annualmente un certo quantitativo di questi titoli e di assegnarli a vari soggetti, vari operatori dell'ambito dell'economia privata. Più precisamente in primo luogo queste assegnazioni sarebbero dirette sia ai lavoratori che alle aziende. Quindi io integro il reddito del lavoratore dipendente, anche del lavoratore autonomo in realtà, di una certa percentuale rispetto ai suoi livelli attuali. Percentuale che può arrivare alla proposta fino a un 20%, poi c'è una scalità dove ci sono percentuali più basse per i renditi maggiormente elevati. Pensiamo per esempio a una persona che ha una retribuzione mensile di 1.500 Euro netta, si ritrova sostanzialmente ogni mese a ricevere 1.500 Euro, che sono Euro cash, più 300 Euro in forma di questo titolo. Dall'altro lato l'azienda ha una situazione simile, nel senso che paga lei un costo lordo per il dipendente e anche essa riceve però un sussidio, un sostegno, una forma di compensazione pari a un 20% massimo del costo lordo. per l'azienda stessa. Quindi in pratica intervengo su due lati del cuneo fiscale. Aumento la retribuzione netta, nel senso che do gli stessi Euro cash di prima al lavoratore, ma in più gli do un titolo da un lato. L'azienda all'altra parte paga sotto forma di, anzi a titolo di retribuzione netta al dipendente, poi come struttura di imposta paga per suo conto imposte dirette contributi sanitarie e pensionistici, ma questo viene parzialmente sgravato dal fatto che gli viene assegnato un titolo di Stato. Marco fammi capire se ho capito correttamente. Lo Stato ogni anno emette circa 200 miliardi di titoli che però hanno come una natura monetaria, è come se fossero aventi una moneta e vanno un po' i lavoratori e un po' le aziende. Quindi entrambi hanno questi surplus che possono essere usati per pagare fondamentalmente, giusto anche per semplificare, le tasse. In realtà si possono pagare future, tasse future. Fammi capire questo concetto del valore futuro, insomma, perché non è un valore immediato? Allora, non è un valore immediato perché non voglio avere scompensi sulle necessità di finanziamento dei deficit pubblici, quindi voglio far sì che la pubblica amministrazione italiana continui per il primo periodo di introduzione di questa innovazione a disporre di incassi in Euro sufficienti per soddisfare le sue esigenze di pagamento, perché intanto lo Stato italiano dovrà continuare a sostenere SPER, dovrà continuare a sostenere pagamenti in esibuzioni, dovrà continuare a servire il pagamento di interessi e di rimborso di debito pubblico. Tutto questo è qualcosa che avrà un suo miglioramento di profilo, via via che l'economia riprende, però l'idea è di creare un differimento temporale per fare in maniera tale che non ci sia una difficoltà nel primo periodo di applicazione della riforma. L'idea quindi era di assegnare titoli che sono, come li ha definiti qualcuno, una moneta a utilizzo differito. Quindi io la metto in tasca a lavoratori ed aziende e lo Stato consentirà al percettore e all'assegnatario di utilizzarlo nei suoi confronti a partire da una data futura che è 24 mesi dopo l'assegnazione. Questi titoli però hanno un valore fin da subito, il motivo per cui hanno un valore fin da subito è che sono titoli di Stato, che sono in pratica degli zero coupon a 24 mesi, che il percettore potrà mantenere in portafoglio se decide di detenerli come forma di risparmio, ma più probabilmente li convertirà in Euro. Io ricevo 300 Euro mensili di certificati di credo fiscale, se li voglio monetizzare e convertire in Euro ci sarà un mercato dove questi titoli potranno essere scontati a un tasso in linea grossomodo un tasso bot a 24 mesi. Quindi oggi potrebbe trattarsi di un tasso in realtà molto basso, magari in condizioni economiche normali potrà salire un po', però mettiamo che questo tasso di attualizzazione sia un 2% all'anno, quindi un 5% su due anni, in pratica i 300 Euro di certificati di credo fiscale potranno essere convertiti in 285 Euro di Euro cash. Posso essere un po' di più, un po' di meno. E immagini che comunque di questi titoli vi sia un mercato sufficientemente florido da non farne crollare il valore, per cui in sostanza con un'approssimazione anche abbastanza grossolana, un certificato, un Euro è un valore già da subito, insomma io ottengo questi certificati dallo Stato, non mi piacciono, li converto subito in Euro perché c'è un mercato, li vendo in sostanza, qualcuno invece che pensa sia comunque un buon investimento li vorrà acquistare, quindi si farà un mercato di questi certificati e quindi è questo il meccanismo che consente da subito di avere un vantaggio, in pratica economica. Assolutamente sì, se tutto questo vuol lasciare un attimo perplessi, chiarisco il problema del punto. Un certificato di credo fiscale è a tutti gli effetti l'equivalente di una banconota che so che potrò illimitatamente utilizzare a partire da una certa data futura. Se tu hai in mano una banconota da 100 Euro con un vincolo di utilizzo, quindi non la puoi usare oggi, ma la potrai usare tra 24 mesi. Arrivo io e ti dico, non la puoi usare oggi, regalamela, ovviamente tu non me la regali. Ti propongo dammela a metà del valore facciale, a metà del valore facciale non me la dai. Ti propongo il 90% del valore facciale, forse ci rifletti un attimo, poi dici non mi basta. Ti propongo il 95% del valore facciale, allora discutiamo, poi può essere il 94 o il 96, quindi ci sarà uno sconto di mercato finanziario, però è evidente che un'attività a utilizzo differito vale qualcosa di meno, ma solo qualcosa di meno rispetto al suo valore facciale pieno. È un pure semplice concetto di attualizzazione di valori finanziari differiti. Tra l'altro faccio notare che rispetto al normale titolo di Stato, un certificato di credo fiscale in realtà è qualcosa di ancora più sicuro, appunto perché un titolo di Stato che lo Stato italiano si impegna a rimborsare in Euro, dato che la macchina di stampa degli Euro lo Stato italiano non la possiede, ha un rischio di insolvenza. Oggi nel mercato questo rischio è tornato a stimarlo in maniera relativamente contenuta, però ricordiamoci che tutta l'accelerazione della crisi del 2011 è nata proprio dal fenomeno dello spread. Il mercato del capitale a un certo punto, poi ultimamente sono uscite parecchie notizie e parecchie tesi sul come mai si siano creati certi tipi di comportamenti da parte degli operatori bancari e finanziari, però il dato di fatto che a un certo punto il titolo di Stato italiano veniva venduto e quindi cadeva di valore, aumentava il tasso di interesse implicito, perché si è diffuso sul mercato il timore che l'Italia non sarebbe riuscita a rimborsare il suo debito pubblico, a rifinanziare il suo debito pubblico, oppure sarebbe stata forzata a uscire dal sistema Euro, quindi a svalutare, perché un investitore estero aveva da un lato la possibilità di vedersi e proporre una ristrutturazione del debito, dall'altro di vedersi forzato ad accettare una nuova lira con valore inferiore, con valore svalutato rispetto all'Euro. Tutte queste preoccupazioni nel caso del certificato di credito fiscale non esistono, perché è una banconota che verrà accettata dallo Stato esattamente sulla base del suo favore facciale, esiste solo un fattore di attualizzazione temporale, ma non esiste un rischio di insolvento. Quindi Stato è uno strumento finanziario che possiamo definire come ancora più sicuro di un normale titolo di Stato. Fantastico, fantastico. Ho una domanda, una curiosità. Hai detto precedentemente che ogni anno lo Stato stamperà circa 200 miliardi totali. Innanzitutto è una operazione che verrà compiuta ogni anno per un certo lasso di tempo o ogni anno indefinitamente per il futuro? E poi, perché 200 miliardi? Come mai questa cifra? Allora, c'è un ragionamento e una riflessione che trovate poi espresso in forma analitica nel blog e nel libro. Quindi non sono numeri, sono numeri che chiaramente sono un primo livello di proposte che può essere affinato, però non nascono evidentemente, non sono tirati a calcio. Il motivo per cui si parla di questo ordine di grandezza è dovuto al fatto che l'Italia a partire dal 2007 ha sofferto una grave, una grossa caduta di PIL e di produzione e di occupazione. Il livello di minor PIL può essere confrontato alla situazione che l'Italia avrebbe dovuto trovarsi, in cui si sarebbe dovuto trovare, se avesse avuto una dinamica di sviluppo, anche modesta, però in linea con le tendenze passate. Quindi se noi prendiamo il PIL del 2007, poi abbiamo un tasso di crescita tra l'1 e il 2%, 1,5% circa, che è quello che più o meno garantisce, forse anche una stile piuttosto conservativa, l'impiego delle nuove risorse occupazionali, quindi sostanzialmente dell'incremento naturale demografico di produttività e di forza del lavoro, arriviamo alla conclusione che a 7 anni di distanza il prodotto interno lordo italiano sarebbe dovuto essere 10% più alto circa di quello del 2007, quindi un emetto per cento grosso modo per 7 anni malcontato con 10%. Oggi non abbiamo un PIL 10% più alto, abbiamo un PIL 10% più basso, quindi ci stiamo muovendo a un regime di funzionamento dell'economia che sono 20 punti di prodotto e di reddito nazionale in meno rispetto a una stima approssimativa di quella che dovrebbe essere una situazione normale. Un 20% di PIL sono circa 300 miliardi. Si propone quindi un intervento di 200 perché in un contesto di 30 e 90, quello che storicamente si è modificato è che immettere risorse produttive, risorse finanziarie, quindi capacità di spesa, potere d'acquisto del sistema, ha un effetto amplificato, amplificato perché sostanzialmente la spesa pubblica o privata che sia, quindi del soggetto che si vede ridurre le tasse o dello Stato che effettua spesa diretta, mette reddito in mano ad altri operatori che poi alimentano un circolo virtuoso, così come la caduta precedente ha alimentato un circolo vizioso. Siccome la stima del moltiplicatore del PIL rispetto a queste variazioni di domanda è approssimativamente pare una volta e mezzo, l'idea è di emettere 200 miliardi per conseguire un recupero di PIL che conservativamente peraltro non è stato stimato a venire un anno solo, ma è stato distribuito su tre anni nelle previsioni che abbiamo effettuato, pari a 300 miliardi, quindi ripristinare sostanzialmente tutta, riassorbire tutta la caduta di reddito, tutta la caduta di produzione e tutta la caduta di occupazione che si è venuta a creare dal 2007 ad oggi, dall'inizio della crisi ad oggi. Questi numeri vanno interpretati come degli ordini di grandezza, ma la riforma, la struttura della proposta è poi anche flessibile, nel senso che io posso partire con un determinato ammontare di risorse e poi regolarlo nel tempo. Mi accorgo che la rapidità di ripresa è ancora più accentuata di quello che pensavo, posso limare le dimensioni di intervento negli anni successivi, mi accorgo che è insufficiente, posso aumentarlo. Ho una leva flessibile e qui tolgo il concetto che la valenza di questa riforma è appunto quella di ridare in mano allo Stato italiano condizioni di gestione della sua politica economica. Il vero problema dell'attuale eurosistema, l'attuale sistema di governance economica dell'Eurozona è che non ci sono più leve d'azione in mano ai singoli Stati, perché non c'è più la possibilità di emettere moneta, ma dall'altro lato ci sono pure i vincoli, il 3% deficit PIL, poi c'è la minaccia incombente del fiscal compact che se venisse realmente applicato creerebbe impegni di riduzione del livello percentuale di debito pubblico rispetto al PIL negli anni futuri, qui poi tra l'altro la legislazione in materia al trattato è scritta in maniera particolarmente ambigua e articogolata, faccio notare per cui non è ancora neanche chiaro esattamente in che misura questi impegni scatteranno, se a partire dal 2015 o dal 2016, ma il concetto è che comunque l'Italia, così come altri paesi, sono vincolati al rispetto di parametri di rapporto tra deficit e PIL che impediscono di mettere nel sistema le risorse economiche che sono necessarie per far ripartire la domanda. Le cause della recessione, della depressione economica italiana sono queste, è il motivo per cui l'Italia le ha sofferte in maniera anche più accentuata degli altri paesi, a volte si sente dire, ma in definitiva gli altri paesi in difficoltà hanno avuto cadute meno gravi, a parte che poi spesso vengono citate situazioni come quella spagnola che si vorrebbe far passare con una situazione di recupero, quando in realtà se c'è è marginale o frazionale rispetto al contesto del nostro paese, ma l'Italia è stata vincolata al rispetto dei parametri di deficit pubblico su PIL in maniera estremamente rigida quando tutti gli altri paesi, una cosa in maniera o nell'altra, hanno visto concedersi o hanno attuato e hanno visto le autorità europee che comunque abbuzzavano, facevano buon viso a cattivo gioco, dei livelli di sforamento che in Italia non si sono verificati. Per fare un esempio, nei tre anni tra il 2011 e il 2013 l'unico paese tra quelli in difficoltà che ha rispettato in maniera quasi al decimale il rapporto del 3% all'anno, quindi ha fatto un 9-10% di deficit pubblico in tre anni, è stato proprio l'Italia. La famosa Spagna di cui si parla a volte come un modello di recupero economico dove l'austerità avrebbe funzionato, ha fatto un deficit PIL cumulato su tre anni del 27-28%. Comunque tornando poi al tema originario, abbiamo bisogno di riappropriarci delle leve di funzionamento e di governo dell'economia, quindi abbiamo bisogno sostanzialmente di fare spesa a deficit. Mi inserisco in questo momento perché è arrivata una domanda e in realtà un'altra persona che sta seguendo Davide ha risposto anche in chat, quindi leggo la domanda e la risposta e vediamo se cosa ne dici tu. Insomma Gabriella fa un po' una mezza critica e dice vabbè ma oltre a questa mancanza delle leve di governo dell'economia vi sono anche problemi di una forte concentrazione di ricchezza in mano a pochi, suppongo, voglio dire che in qualche modo caratterizza anche questa crisi, quindi la poca distributività delle risorse. Quindi questa iniziativa è giusto uno stimolo all'economia? Non è un po' troppo morbida? Chiede lei, insomma non è un po' troppo diciamo ancora a favore di questo tipo di disparità? E Davide risponde ma guarda i certificati dei crediti creano liquidità che va nelle mani di chi lavora e anche delle aziende. In realtà gli euro vanno a chi lucra sull'investimento dei capitali. Danno in tua interpretazione della domanda e anche di quello che ci ha detto Davide, così vediamo. Direi che Davide mi ha come dire sgravato di una parte di lavoro nel senso che la risposta è che condivido, magari mi invito un attimo a qualificarla. È vero che c'è un problema poi di concentrazione ricchezza, c'è un problema di equità di prelievo fiscale e di equità di distribuzione delle risorse. Però tutte queste non sono situazioni che sono nate con la crisi del 2008 o con la crisi del 2011. Il motivo per cui ci sono a caso mai accentuate e qui Davide ha identificato la linea di chiarificazione del tema, anche quella corretta, è proprio il fatto che quando si viene a perdere occupazione, poi chi soffre sono soprattutto i ceti sociali delle categorie più disagiate. Anche perché tra l'altro gli incrementi di fiscalità sono andati a gravare tramite meccanismi di aumento di imposizione regressiva sui consumi e sono cose che pesano proprio sulle categorie deboli, perché una persona con disponibilità di reddito, di patrimonio di un certo livello, non è che si fa questi grandi problemi, se poi paga il piano di benzina 10 Euro o 20 Euro in più, per una persona con un rendito basso o con problemi di occupazione evidentemente ci sono stati di fenomeni molto più accentuati, però molto più significativi, per cui c'è molta più sensibilità inevitabilmente. Però il tema che mi preme sottolineare è che è vero che esiste un problema di distribuzione e concentrazione di ricchezza. Sono usciti anche il libro di Picchettini recentemente di cui si sta parlando, c'è una tematica per esempio di come garantire una maggiore distribuzione dei patrimoni, dove si fa riferimento però soprattutto ai grandi patrimoni. Ricordiamo che però il vero problema di polarizzazione dei redditi dei patrimoni e di aumento della disparità è proprio legato all'occupazione. Dov'è che un sistema economico garantisce, o qual è il primo strumento tramite cui garantisce un'equa distribuzione delle risorse? Promuovendo un contesto di pieno impiego, di occupazione ottimale, che non vuol dire una situazione in cui non c'è neanche un disoccupato come dato statistico, vuol dire una situazione in cui c'è un mercato del lavoro che assorbe sostanzialmente chi si affaccia sul mercato, quindi lo studente che finisce alle medie superiori all'università, che ha alternative di lavoro, stabile, a tempo indeterminato, eccetera. La persona che ha 40 anni, 45 anni viene coinvolta in una ristrutturazione aziendale, magari deve cambiare lavoro, ma ha subito delle alternative, non col rischio di essere precario fino a 35 anni e disoccupato che 45 in poi, che è il dramma sociale di questo periodo. E' proprio uno stimolo all'economia che consente il raggiungimento del pieno impiego, a costituire la forma di riallocazione del reddito, delle risorse nell'ambito del sistema economico più efficace. La redistribuzione mediante forme di imposizione patrimoniale non è qualcosa che mi vede necessariamente negativo. Vorrei però invitare un po' di cautela di risparmiare certe proposte perché quando si parla di patrimoniali probabilmente scatta il meccanismo di interpretare proposte di questo genere come andare a prendere i soldi dei miliardari in Euro, quindi i Ferrero, i De Benedetti, i Benetton, non che ce l'abbia particolarmente con nessuno di questi signori. Ricordiamoci che questi grossi patrimoni sono quelli che poi sono anche schermati, difesi, trasferiti all'estero, c'è anche il problema di come andarli a prendere. Se si parla di patrimoniali di grosse entità, di grosse ordine di grandezza, il rischio poi di andare a penalizzare i soggetti che hanno 300 mila Euro liquidi e la casa di proprietà. In effetti un problema di incremento di imposizione patrimoniale negli ultimi anni si sta costantemente verificando e come si sta verificando con l'IMU, con la TASI adesso, quindi andando a gravare poi in definitiva la piccola proprietà. Quindi questa riforma, questa proposta ha un obiettivo che è quello del pieno impiego. Il pieno impiego vuol dire garantire una dinamica e una prospettiva di occupazione che tocca sostanzialmente tutta la popolazione, che non lascia nessuno in difficoltà nel reperire forme di impiego adeguate, se ne ha la volontà chiaramente, e che storicamente è sempre stata la migliore garanzia anche di migliore distribuzione del reddito e di migliore distribuzione delle risorse economiche del sistema. Ok, allora, siamo già a 50 minuti di chiacchierata che sono stati veramente molto, sono andati via molto lisci, devo dire. C'è una domanda che posso collegare a un altro punto che volevo toccare, in effetti più avanti, la faccio prima. cerchiamo di tenere il discorso in 5 minuti e poi chiudiamo con il confronto tra break up dell'euro e invece riforma morbida. Quindi facciamo questi due argomenti. L'argomento viene introdotto in qualche modo da un commento di Gabriele che dice una cosa del genere, cioè quindi una sorta di moneta parallela, esiste già anche in Francia, a Nantes, ma la disoccupazione cresce comunque e la domanda stagna. Quindi questo è il primo concetto che lancio e che ha toccato Gabriella e quindi mi inserisco sull'altro argomento che volevo anche toccare, fare un po' un parallelo tra i certificati di credito fiscale e quello che esiste già in Italia con questa forma di, con l'arcipelago SCEC, quindi questo insieme di certificati, questi sono di sconto in realtà. Però sarebbe interessante fare un po' un parallelo e se è possibile rispondere a Gabriele e dire come mai in questo contesto i CCF invece potrebbero fare qualcosa. Ecco, non so se sono riuscito a inquadrare. No, è perfettamente chiaro e direi che rispondo precisando intanto che gli esperimenti di moneta locale e moneta complementare sono sicuramente interessanti, esistono effettivamente varie casistiche in Italia, c'è anche il SARDEX, c'è un progetto in Sicilia anche in fase di da un po' di tempo di studio, ci sono esempi esteri, però il problema è che le monete complementari locali hanno sempre una valenza per loro natura limitata, ma limitata non perché si utilizzino in un contesto territoriale ristretto, perché uno potrebbe anche pensare a mappare il territorio e alla fine coprire anche tutto il territorio nazionale, se l'idea prende piede. Il problema della moneta complementare è che è un sistema privatistico, non c'è dietro l'autorità dello Stato, quindi è un meccanismo di fatto per rendere liquido una forma di credito che operatori privati si prestano vicendevolmente. Nulla di male in questo, può agevolare, può supplire a certi problemi, però non c'è un soggetto come lo Stato che funge da accettatore di ultima istanza. Quindi la possibilità di espandere l'utilizzo di uno strumento con queste caratteristiche per supplire a un deficit di domanda, a una carenza di reddito e di utilizzo delle risorse produttive del sistema economico, come quello che esiste oggi in Italia e in tanti altri paesi, in particolare nella zona Euro, di fatto non esiste, sono esperimenti che hanno per loro natura una valenza limitata, anche perché lo SCEC, la moneta complementare rende liquido, fa circolare meglio il credito nell'ambito di un sistema, però non c'è dietro un motore, una pompa che alimenta sostanzialmente mettendo risorse di nuova creazione in mano a soggetti economici privati. Per fare questo ho bisogno dell'autorità dello Stato, ho bisogno di qualcuno che utilizza l'emissione di questa forma di moneta per alimentare spesa, spesa pubblica diretta o spesa privata indirettamente per il fatto che riduco i costi delle aziende o miglioro il reddito netto dei lavoratori dipendenti, autologhi etc. Quindi l'ordine di gradenza, le valenze di un progetto certificato di credito fiscale esteso a livello nazionale sono ben diverse da quelle che danno dei progetti di moneta complementare. Perfetto, si sta scatenando anche una piccola botta e risposta che però per ovvie ragioni di tempo non riporto in questo momento, magari si potrebbe avere in futuro, se sarai ancora disponibile, magari un dibattito più aperto, invece ti invito in una sessione aperta, questa volta su un altro strumento dove non ci sarà registrazione, ma se vorrai ci sarà un po' più di dibattito e vedremo cosa viene fuori. Invece vorrevo chiudere con una considerazione che secondo me anche questa è molto importante, quindi vale appena toccarla, riguarda in pratica il confronto tra quello che viene proposto, cioè questa riforma morbida, questa introduzione dei certificati di credito fiscale per riacquistare nuovamente sovranità monetaria ed eventualmente cosa che mi pare non abbiamo toccato, progressivamente andare a sostituire la moneta unica, non necessariamente potrebbe essere come forse dirai una decisione che può essere presa successivamente e quindi confrontare questa riforma con invece l'altra alternativa, fatto salvo che dopo aver stabilito che l'euro non ci piace e quindi vogliamo togliercelo di mezzo, l'altra alternativa è il break up, quindi il break up immediato della moneta unica e il ritorno alle valute nazionali. Quindi ci sono queste due modalità e perché è meglio la riforma morbida di un break up dell'euro. Allora ci sono dei motivi che ritengo essere piuttosto precisi e piuttosto significativi, dall'esposizione poi ci sarebbero anche altri punti di approfondimento ma chi vorrà potrà farlo naturalmente andando sul blog, leggendo il libro che tocca poi in dettaglio tutti questi aspetti. La riforma morbida sostanzialmente ridà all'Italia le leve d'azione necessarie per risolvere tutti i problemi che sono venuti a creare per effetto della rigidità dell'eurosistema. Possiamo emettere una forma di moneta e ripristinare domanda, possiamo riportare il sistema economico al pieno impiego. Cito anche un fatto che era implicito in quello che dicevo precedentemente ma è la pena di menzionarlo. Siccome una parte delle emissioni viene destinata ad abbattere i costi delle aziende, ottengo lo stesso effetto, per altre vie un effetto analogo a quello che avrei con un riallineamento valutario. Questo anche per rispondere all'obiezione che mi è stata fatta, ma questa maggior domanda, questo recupero di reddito all'interno del sistema economico, poi in parte si andrà a scaricare un peggioramento della bilancia commerciale. Non è così perché tengo conto anche del riallineamento dei costi di lavoro e delle competitività e lo strumento non consente. Ottengo la possibilità in pratica di finanziarmi senza fare più utilizzo o facendo gradualmente nel tempo sempre di meno, ma poi posso a un certo punto evitarlo in maniera totale, a nuove emissioni di Euro sul mercato dei capitali internazionali o sul mercato dei capitali più curi. Quindi l'Italia riacquisisce tutte le leve d'azione la cui mancanza è all'origine della crisi, quindi flessibilità, riallineamento competitivo, sostegno alla domanda, finanziamento con uno strumento monetario sovrano e non reperito sul mercato dei capitali internazionali. Ora, perché tutto questo è più facile, decisamente più facile da implementare rispetto a un break up dell'Euro? È abbastanza, se vogliamo, intuitivo. Pensiamo alle complicazioni che una rottura della moneta unica comporta. In realtà una modalità operativamente delineata in tutti i suoi passaggi di spaccatura della moneta unica non l'ha esattamente delineata con grande precisione a nessuno. Si dice che verranno chiuse le banche, il venerdì sera le riapriamo il lunedì, durante il weekend avviene la conversione, non è chiaro quanto tempo serve per modificare i sistemi informativi, non è chiaro quanto tempo serve per stampare le valute, non è chiaro in che misura si verificherebbero turbolenze, fughe di capitali, corse agli sportelli. Sono tutti fenomeni che all'atto pratico possono essere pesanti o possono rivelarsi non così gravi. La verità è che fin quando non ci hai provato, per certo non lo sai. Ci sono poi degli altri problemi che sono legati al fatto che spesso il break up viene confrontato con la rottura del sistema moneta europeo avvenuta nel 1992, la rottura dello SMEP. Trascurando però che il contesto era abbastanza differente per un semplice motivo. Il sistema moneta europeo era un sistema di cambi fissi, per cui le attività o passività ai crediti debiti in lire erano lire, in marchi erano marchi, in altre valute erano quello che erano. Non si verificava un processo di ridenominazione. È vero che c'era un cambio fisso, il cambio fisso però gli operatori sapevano che potevano a un certo punto modificarsi. Chi voleva proteggersi e cautelarsi dal rischio di cambio lo faceva assicurandolo con meccanismi di opzioni, con strumenti derivati che esistevano come esistono oggi e c'era un contesto sostanzialmente in cui la transizione fu in una certa misura turbolenta ma in definitiva neanche tanto. Oggi ci troviamo in una situazione piuttosto diversa, anzi molto diversa dal punto di vista giuridico, immaginiamo un'azienda italiana che abbia un debito nei confronti di un creditore tedesco, gli dice ti rimborso il diro svalutato del 20-25%, quello che sarà la percentuale. Il discorso con ogni probabilità non finisce lì, nel senso che il Paese che vede determinati i suoi interessi economici lesi nella svalutazione probabilmente attiverà azione di rivalsa, quindi solleverà contenzioni giuridici, cercherà di rifarsi su beni italiani detenuti all'estero, quindi si verificherà una situazione decisamente più turbolenta e decisamente più complessa. Ripeto, io non so per certo, ma francamente sono convinto che non lo sappia nessuno, se il livello di alterazione, se il livello di problemi che si possono creare sul mercato dei capitali sul mercato finanziario, sia tutto sommato relativamente modesto, o sia tale da creare i percussioni strascici, un'altra situazione, modello fallimento, Lehman 2008, se non addirittura qualcosa di peggio, per certo non lo sa nessuno. Ci sono poi interessi che vengono lesi in maniera chiaramente significativa, forzo i Paesi, nel caso del break up del blocco settentrionale dell'Eurozona a rivalutare la loro moneta, questo col progetto certificato di credito fiscale non avviene. Inflicco una perdita in conto capitale ai creditori esteri dell'Italia. Su questi due punti uno può dire problemi loro, sì, però sono soggetti economici importanti che va valutati in che misura possano osteggiare, evidentemente già oggi sono fortemente preoccupati negativi sull'eventualità di un break up, quindi in che misura potranno poi frapporre azioni che siano di blocco o che siano penalizzanti o tali da impedire l'attuazione di un break up. E poi c'è il fattore psicologico, nel momento in cui l'Italia introducesse una sua moneta che si svaluta, quindi torna a una nuova lira, pensioni, retribuzioni e attività finanziarie detenute da residenti italiani, vengono convertiti in unità monetaria che ha minore valore di prima. Qui preciso subito, io sono assolutamente convinto, con una serie di ragioni che sarebbe forse lungo approfondire questa sede, che la svalutazione del contesto attuale italiano non comporterebbe grossi fenomeni inflattivi, poi lo posso anche citare in realtà il motivo per cui non ci sarebbe una grossa conseguenza inflattiva della svalutazione e che l'economia oggi ha un livello di sottotituto di risorse produttive così accentuato, che è molto difficile che una svalutazione del 20-25% si trasli di inflazione, se non in percentuale molto più ridotta. Però c'è il fenomeno psicologico che non va trascurato, c'è la difficoltà di far percepire all'opinione pubblica la necessità di arrivare a un break up, è legata proprio al fatto che una buona frazione dell'opinione pubblica in tutto questo capisce una cosa sola, che la mia pensione, il mio reddito fisso, il mio conto corrente, il mio titolo di Stato domani diventerà una cosa che vale di meno. Questo è un problema a monte perché che il sistema attuale abbia dei problemi seri, ritengo che si è percepito da una percentuale di popolazione molto elevata. Quando si poi si va a vedere chi è effettivamente favorevole a una fuoriuscita con break up, si scopre che l'uscita dall'euro fa paura. Fa paura perché? Perché tutti questi fattori, ripeto, in buona parte al 90%, forse anche al 95%, al 97%, al 98%, al 99%, psicologici e non reali, non sostanziali, sono comunque tali da essere percepiti come fonte di grossa preoccupazione. Quindi avere un meccanismo di riforma che da un lato può essere discusso alla luce del sole, non deve essere predisposto con vincoli di segretezza, può essere analizzato nei suoi dettagli operativi prima di essere attuato senza un particolare problema di fuga di notizie e non costringe nessun soggetto a cambiare la natura di una sua posizione di reddito o di patrimonio, ritengo che sia molto più facile da applicare e molto più facile da accettare. Dopodiché rimane aperto, per concludere anche sul punto che citato precedentemente, la possibilità è che questo sia un primo passo verso una transizione finale in cui può verificarsi anche la reintroduzione della moneta nazionale a tutti gli effetti, anche come moneta circolante e anche come unità di conto. Questo è un passaggio successivo che può o non può avvenire in questo senso. Riacquisendo le leve d'azione di governo alla politica economica, l'Italia è in grado di tornare a un contesto di pieno impiego, a un contesto di equilibrio, di competitività con i partner commerciali, alla possibilità di finanziare le proprie esigenze mediante strumenti monetari sovrani e quindi ha raggiunto sostanzialmente tutti i risultati necessari. Se poi vuole disincagliarsi o sganciarsi completamente dal sistema, lo può fare successivamente decidendo per esempio che da un certo punto in poi tutte le nuove forme di spesa pubblica e tutte le nuove forme di tassazione introdotte da una certa data avvengono nella nuova moneta nazionale, a questo punto non sarà più il certificato fiscale ma la lira, sostanzialmente trasformando l'Euro a tutti gli effetti in una moneta straniera senza più circolazione sul territorio nazionale. Però questa è una fase 2, ripeto, che non è strettamente necessaria e la decisione in merito alla quale può avvenire anche in un momento successivo. Per cui vedrei sostanzialmente una riforma che si basa sul primo passaggio è una decisione in merito al secondo in un momento successivo. Grazie Marco, ci avviamo già all'ora e quarto di discussione e quindi faccio l'ultima domanda se vuoi conclusiva perché la volevo affrontare come questione. L'introduzione di questi certificati di credito fiscale potrebbero essere osteggiati dagli altri partner europei, visti come sostegno unilaterale all'industria italiana, quindi diciamo in qualche modo violare i patti di concorrenza e invece perché non dovrebbero essere osteggiati, oppure affrontiamo questa cosa relativamente ai nostri partner europei. Come potrebbero prenderla questa introduzione, questa diciamo aiuto pubblico alla competitività? Sai, si può parlare di aiuto pubblico alla competitività, la verità dei fatti è che questa è una struttura di revisione del sistema che gli consente di essere preservato e che sgombra una volta per tutto il terreno dei rischi di rottura e di deflagrazione che sono quelli che come timore sotto la superficie, sotto il pelo dell'acqua in realtà sono ancora assolutamente presenti. Mettiamola così, per rispondere alla tua domanda, dipende poi se ci confrontiamo con un contesto in cui si va avanti come oggi o con un contesto in cui si arriva al break up. Se confrontiamo questa situazione con la continuità rispetto alla situazione attuale, chi potrebbe osteggiare o per quale motivo potrebbe essere osteggiato una riforma di questo tipo, evidentemente le autorità centrali dell'Eurozoa, la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea che vedono una perdita di influenza, una perdita di potere fondamentalmente. Però se confrontiamo una linea di questo tipo con il break up, sgombriamo invece il campo ed evitiamo i problemi che menzionavo prima, turbolenze sul mercato finanziario e capitali, perdite inflitte ai creditori esteri e anche in realtà l'attività finanziaria detenute dai residenti italiani, anche se poi il problema come accennavo precedentemente è tangibile, avvertibile per i primi molto più che per i secondi e non forzo la rivalutazione e l'immediata perdita di competitività quindi dell'industria esportatrice del nord Europa, tedesca in particolare nei confronti poi dei mercati internazionali, non costringo la Germania a ritrovarsi lei con una valuta rivalutata. Quindi se mi confronto con la continuità attuale se la può prendere la Commissione Europea, la BCE come strutture centrali dell'eurosistema dell'Unione Europea perché vedono una perdita di influenza, però è un concetto politico, se mi confronto al break up ho una situazione che ha solo dei vantaggi. All'atto pratico quello che mi sento di dire è che il timore di reazioni non l'ho ancora visto tradotto come preoccupazione in rischi che fossero da qualcuno chiaramente identificati, cioè parlando e scambiando idee su questo argomento, molti mi dicono ma la prenderanno male alla domanda sì ma cosa possono fare in pratica? Nessuno è in grado di dare risposte precise, come me lo impediscono all'atto pratico? A livello anche di coerenza con normative e trattati mi sento di dire, poi sarebbe un tema da approfondire, richiederebbe parecchio un altro tempo che si tratta di una modalità di revisione del funzionamento del sistema che non è più incoerente con i trattati, che è compatibile con un'interpretazione dei trattati attuali, meno incoerente di tante altre forzature che si sono fatte nel recente passato, vedi decisioni della Banca Centrale Europea in merito all'OMT, vedi acquisti sui mercati dei capitali e varie altre cose. Quindi è difendibile alla luce dei trattati ed è sotto tutti gli aspetti molto ma molto meno deflagrante, molto ma molto meno problematico di un break up. Dopodiché non c'è dubbio che andare su questa linea richiede una volontà politica ben chiara, definita e ben precisa. Però ricordiamoci una cosa, se partiamo dal presupposto che il sistema attuale non funziona, e questo mi sembra personalmente molto difficile da contestare, e quindi bisogna uscirne, la via morbida rispetto alla via deflagrante a livelli di complessità operativi, tecnici e anche legali che sono su scala forse 1 a 100, cioè enormemente inferiori. Quindi mi sembra molto difficile, ripeto, se si solleva l'obiezione non mi piace perché voglio andare avanti come adesso, non condivido il presupposto, però se non altro c'è una coerenza in una lira di ragionamento come questa. L'obiezione non condivido quindi voglio il break up, non è coerente, perché il break up sotto tutti gli aspetti è qualcosa di molto più complicato. Ricordiamoci che l'euro è stato costruito così, e queste non sono interpretazioni cospiratore, sono dichiarazioni fatte dei vari attalini, dei vari delor, da vari soggetti che sono stati tra i padri di questo sistema della moneta unica, appunto perché doveva essere un sistema introdotto nel quale non ci fosse una possibilità tecnica di uscire. Allora se la possibilità tecnica è stata in qualche maniera ostruita, se si è chiusa la porta chiave, dobbiamo trovare la maniera di uscirne tramite il costruirci una linea, l'identificazione di un'uscita di servizio che è rimasta aperta, insomma questa è la maniera in cui mi piace a volte descrivere la cosa. Ecco dove quindi si ha un'evoluzione è un progetto di riforma che ha molte più possibilità operative e anche politiche può di essere accettata. Bene, allora grazie tantissime Marco per questa descrizione, devo dire che sei estremamente chiaro nel spiegare le cose, quindi veramente fruibili nei contenuti, ci sono stati diversi interventi, diverse domande, ce ne sono ancora altre che però per evidenti limiti di tempo non riusciamo a fare, se sarai disponibile a tornare a chiacchierare con noi, quindi invito anche le altre persone che hanno seguito a tenere d'occhio gli eventi che arriveranno sul Meetup Europa e eventualmente rifaremo un'altra chiacchierata insieme. Quindi grazie mille di questo tuo tempo. Ringrazio tutti voi, spero che appunto la cosa sia risultata interessante e stimolante, sarà sicuramente un piacere rincontrarci, rivederci nel contesto di questi hangouts, ricorderai poi tu magari con qualche sovraimpressione appropriata che c'è un blog che gestisco per parlare di questi argomenti, tra l'altro per tutte le domande specifiche sono sempre contattabili e reperibili anche con interventi e dibattiti che si creano proprio a livello di commenti, domande e risposte. C'è il libro che è uscito, che mi fa piacere naturalmente, sarà letto e approfondito da chi di voi riterrà di farlo e spero naturalmente certamente, ricordo che il blog si chiama bastaconleuroclisi.blogspot.it, poi lo metterò chiaramente in sovrappressione, così come la copertina del libro che potrebbe essere decisamente un'ottima lettura per tutti. Quindi saluto tutti e grazie mille Marco. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi.